Eccola, eccola che arriva! No, no, aspetta, voglio vederlo anch'io! È veramente bello, congratulo a te, bellissimo! Bello, benedicato a casa, Zaccaria! Auguri, Zaccaria! Congratulazioni, Zaccaria! Benedetto tu sia, signore, re dell'universo, che ci hai benedetto coi tuoi comandamenti e ordinato di accogliere i nostri figli nell'alleanza di nostro padre Abramo questo fanciullo entra nell'alleanza e può così accedere allo studio della Torah al matrimonio e alle opere di giustizia questo è il sigillo nella carne dell'alleanza fra il Signore e il suo grande popolo qual è il nome del fanciullo? il suo nome il suo nome sarà Giovanni quando arriverai a Nazareth di a Giuseppe quanto hai visto e udito quello che sai il Signore è dalla vita lato verrà impossibile e una vita sarà quella del figlio di Dio e l'altra sarà quella del suo profeta va di tutto questo a Giuseppe ma come potrà credermi? non dubiterà di me? Dio aprirà il suo cuore grazie a tutti grazie a tutti Grazie.